Tottoni Sanna, presidente della Nuoro Softball, la federazione ha ripescato in Serie 1 la società nuorese in virtù dei grandi meriti sportivi maturati in questi anni, 16 anni consecutivi nell'elite del softball italiano, non sono passati inosservati? Assolutamente sì, un grande riconoscimento datoci dalla federazione dopo un anno disgraziato l'anno scorso, però fa parte del gioco. Unitamente ad altre squadre abbiamo presentato la domanda di riprescaggio, siamo stati premiati grazie alla nostra storicità, anche al nostro prestigio e anche ai dati ottenuti. Per cui ci troviamo adesso di nuovo in Serie A in un anno importante perché ricordiamoci che il Soboli è l'anno olimpico e per cui combattiamo anche con altre squadre per costituire una nazionale degna di partecipare a Tocchio 2020. Quali sono i programmi della società, li avete estilati, qual è l'obiettivo? Innanzitutto abbiamo continuato il nostro lavoro di ampliamento della società, abbiamo assegnato a Ivan Soron, nuorese con esperienza l'incarico di direttore tecnico, sta già cominciando a costruire la squadra, chiaramente compatibilmente con i tempi, abbiamo due mesi di tempo per costruire la squadra, unitamente ai settori giovanili con cui stiamo già lavorando, cercheremo di fare una squadra competitiva, anche perché quest'anno avremo tre retrocessioni per le scelte federali che vogliono ulteriormente ridurre il campionato di Serie A del 2019.